Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in Fipili e in tutta la rete autostradale toscana. In A1 tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma c'è un veicolo fermo in avaria. Ancora in A1 veicolo fermo in avaria anche tra Arezzo e Valdarno in direzione Bologna. Sulla Fipili restringimento di carreggiata nel tratto tra Lastra, Signa e Ginestra Fiorentina per lavori in corso. Ancora in Fipili tra Montopoli, Valdarno e Ponte d'Ereste in direzione Livorno, personale su strada per lavori. Per quanto riguarda il traffico cittadino a Firenze fino alle 19 di oggi, il viadotto all'Indiano sarà chiuso in entrambe le direzioni per lavori in corso. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!